ciao a tutti nuovo video all scusate per la location improvvisata ma devo tenere giù la serranda per vedere caldo e affoso ho messo il lucivico, vento, nota fashion iniziamo con il video all, spero che vedi tre mani da fastidio ma senza quello non faccio sono anche un poche più per i bagnati perchè un giorno sia un giorno normale comunque passiamo subito a questo comprati da casanova e così si chiama fiocco non si chiama fiocco di memory ecologico, antiacaro, tossico, porto sul cuore l'ho dovuta ricomprare la mia nonna al ricombre perchè diventa tutti sottile questo l'ho pagato da 7,90 la maggior parte costa 14 euro, 24 euro, un casino di soldi ho in questa busta qui ho messo altri acquisti adesso pescherò pescherò perchè ho dovuto anche aspettarli perchè dovevano arrivare degli ultimi amazon ho dovuto aspettare che arrivassero ho comprato questa pinta qui a 6,90 euro l'exelence cream della l'oreal colore nero l'ho fatto l'altro giorno è veramente un nero naturale non un nero finto copre qualsiasi colore che abbiate sotto non ha coperto il castano scuro è omogenea e dà proprio lo strumento al capello al capello 6,90 euro da IPRESOP sempre da IPRESOP ho preso a 95 centesimi le soffidea da peschi sono salviette molto nuso poi da tigota ho preso a 7,95 euro ho il mio siero viso perchè ho finito il mio siero ho preso questa infatti ho preso anche la crema idratante però all'aloe dicevo 7,95 euro siero viso biologico si fa più lift immediato e fa anche dal contorno occhi visto che io ho finito il mio contorno occhi e ho quasi finito lo siero viso questo fa tutte e due la commessa devo sempre riferire a quelle di equilibra ma io sono impazzita per l'omia per il viso quindi solo omia e basta dalla debora dalla debora dalla shop in pugnato 5 terre se lo conoscete ho preso questa lì poi il tint attimi naturali idratati con olio tea organ che qui vedete colorata no? ho detto bella perchè c'era rosa l'arancione e così o rossa mi sembra si rossa la prendo così perchè mi piace tipo color amarena non so se si vede color amarena che bello bellissimo metti sulle labbra è trasparente quindi io pensavo di aver preso tipo una tinta liquida base d'olio invece no però è molto idratante ve la consiglio se se vuoi ti idratare molto le labbra visto che adesso ho le labbra veramente secchissime e poi ho preso un altro mio grande amore il maxi colca gel della devora io ce l'ho bianco verde e blu però del vecchio packaging l'ho preso viola adesso lo prenderò anche nero perchè è bellissimo io non ho mai visto qualcosa cioè durano tantissimo se volevo farlo vedere aperto se sia ah si è aperto è viola non so se lo vedete non lo metterò mai a fuoco è questo viola molto gotoscuro hanno cambiato il pack spero che la formulazione sia la solita non ho mai trovato delle matite cioè matite cajal che durano così tanto all'interno dell'arima dell'occhio se sapete di tezenis perchè perchè da tezenis ho preso a 10,90 euro questi bermuda questi bermuda questi blotti neri bermuda che arrivano poco sopra le dinocchia sono da uomo io avevo pesi blu le ho pesi anche neri perchè sono dritti non stringono sono comodissimi mi coprono quello che devo incoprire e io li adoro li uso sia per casa che per fuori ci sono tantissime poi andiamo a pescare ancora ci abbiamo anche così anche così c'è anche il cartellino che l'ho staccato perchè l'ho usato da oggi 10,90 euro l'ho preso i grandissimi xr da uomo solo per essere molto comoda molto fresca da amazon ho preso le capsule per i miei initori quelle ricaricabili le capsule per la macchina tutta ricaricabile e ho preso l'olio di cocco a 7,99 euro io avevo quello da 500 ml mi è durato due anni ho provato altri dilatanti ma come questo non esiste io prendo questo qua della coconut merchant questo è da 300 ml a 7,99 euro prime io l'ho adoro infatti finalmente si è tornato l'olio di cocco se non lo sapete d'estate è sotto assato liquido ma l'inverno diventa solido basta scaldarlo un po' con le mani è fantastico io ve lo consiglio se volete un'idratante multifunzione per viso corpo, capelli questo è perfetto viso se avete una pelle abbastanza secca però per i capelli per il corpo è meglio per tutti non ingrassa la pelle non ve la rende piena di brufoli è perfetto è anche un attimo anti cellulite se non lo sapete idratante e emoliente è perfetto coconut merchant io ve lo consiglio questa marca qui poi spostiamo un po' di roba che qui c'è un po' di casino ok sempre da amazon mi è arrivato mi è arrivato da amazon la piaccettina segna amazon mi è arrivato questo 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 set di pennelli che vi faccio vedere così l'ho preso a 9,99 mi sembra sì 9,99 prime prime praticamente non pagate la spedizione perchè l'ha pagate una volta all'anno e sono questi tutti belli chiudati e ne faccio vedere uno che sono fotonici le recensioni erano tutte stra positive io ho preso cioè sono fitti morbidi oh mio dio è l'ora di usarli invece sono ancora in forma li userò allora col caldo ho solo occhio e l'altro li voglio utilizzare assolutamente vi arrivano con un lavoro bellissimo giustino fantastici 9,99 su amazon è 1,00 ho preso questo portacchiaro è molto buccioso non so se vedi mai rosa è rosa cipria molto carina poi 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 mia zia mi ha regalato questa borsa qui è molto carina infatti non l'ho ancora usata ma non l'ho dovuta usare è fantastico ho fatto a secchiello con la sua cintura è troppo forte non l'ho dovuta usare così poi devo avvicinare poi poi ho preso questa cuffia che dice cuffia doccia ma anche per la notte che è tipo set della RB sempre presi da Hypershop elegante cuffie per la doccia raso esterno, plastica all'interno io prevedo di usare sia per quando mi devo solo lavare il corpo sia per la notte per mettere i capelli 3 e 32 della RB poi come vi faccio vedere ma 1,99 qui mi può interessare 1,99 l'1 2,98 l'ammorbidente della Winnis che è sempre stato consigliato dal bagno a questa parte provatelo con le migliette non ho trovato della Winnis detersiva per i panni però costa quasi 5 euro quindi quindi molto dolente l'ultimo l'ultimo di zia l'ultimo si di saldo ok ok questi sono gli acquisti questi 2018 spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like un commentino con cosa avete comprato voi o tu che mi stai guardando e niente seguitemi sui social non lo dico quasi mai però ho un profilo Instagram ho il T1 Buttons un profilo Facebook quindi seguitemi iscrivetevi al canale se vi piace un video ovviamente e dite mi saluto e vi mando un grosso bacio ciao ciao